buongiorno buongiorno dal dottor Claudio Saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dgs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi con la v maiuscola oggi parleremo di stress di nervosismo di rabbia fatta nervi del nervoso che anche ha attanagliato il sottoscritto fino al 2008 di fatto io ero stato ipnotizzato senza ipnosi da mio padre quando ero piccolo perché mio padre era sempre stressato sul lavoro in famiglia chi più ne ha più ne metto un ottimo padre però padre che non parlava non dialogava si arrabbiava in pochissimi secondi ed io ero cresciuto e maturato in questi termini finché un bel giorno incrociando la dottoressa Rina Brunini di Los Angeles Beverly Hills a più di 11.000 chilometri di distanza ho scoperto che si può eliminare lo stress a 360 gradi al 101% e oggi sono la persona più calma più forte più equilibrata di questa terra perché ho seguito le istruzioni alla lettera alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota poi come se non bastasse ho conseguito un master a Los Angeles con la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai in ipnosi clinica metodo unico al mondo che io ho coniato poi metodo dcs metodo del dottor Claudio Saracino e ho aiutato centinaia 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 di persone nel mondo online online ragazzi e non soltanto per rilassare come fa qualche guru della scienza moderna ok online come è successo a mio padre come è successo a me come è successo a centinaia centinaia di persone che mi stanno ascoltando in questo momento da tutto il mondo per cui di cosa stiamo parlando ora la mia mission finché sono su questa terra sdoganare il mio metodo metodo dcs di ipnosi dcs vera e professionale ai miscredenti agli scettici alle persone di poca fede in se stessi aggiungo e non in qualche entità in se stessi perché l'ipnosi dcs vera e professionale l'ipnosi in genere non è né religione né politica ora che cosa succede perché una persona è stressata e nervosa parti dal presupposto che non nasciamo e già quando abbiamo tre mesi nella pancia della mamma il cervello è formato organicamente quindi registra come una scatola nera di un aereo tutto ciò che ci gira attorno e tutto ciò che gira nella mente internamente ed esternamente di nostra madre quindi se la mamma è stressata e se sotto pressione per motivo x i debiti la vita all'esistenza la morte il marito i genitori i fratelli le sorelle il lavoro e compagnia bella o l'amante bene che cosa succede trasferisce tutto al feto a noi quando siamo piccoli come se non bastasse noi nasciamo tranquilli giochiamo sulle scale mentre i nostri genitori bisticciano o si 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 stressano oppure vediamo con la coda dell'occhio come si suol dire papà o mamma stressati nervosi che non hanno pazienza per niente e nessuno e tutto ciò che ti racconto le ho vissute su di me in prima persona per cui il sottoscritto è un mentore più che un guru anche se sono un professionista di ipnosi vera e professionale con la v maiuscola mi piace ribadire ciò perché vedo in giro molta ipnosi fuffa ipnosi paura ipnosi da spettacolo e anche aggiungo ipnosi conformista e commerciale come ha detto un grande personaggio che trovi anche su internet che viene praticata ed è conosciuta nelle università di tutto il mondo a livello molto ma molto superficiale per cui di fatto conosce più un autodidatta che ha letto tot libri piuttosto che uno che dice di avere un master una certificazione ipnosi non perché ci siano effetti collaterali attenzione non esiste nessun effetto collaterale ma spendere soldi ad minchiam non va bene ok come si dice a londra detto ciò quando nasciamo quando cresciamo che succede che noi vedendo da piccolini soprattutto sotto i sei anni ma anche sotto i dieci per alcuni e papà mamma o parenti o amici stressati che si arrabbiano che cosa facciamo inconsciamente senza rendercene conto il nostro subconsciente il nostro pilota automatico la nostra mente profonda l'88 per cento della nostra mente registra assorbe 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 e fa diventare la nostra persona la nostra coscienza la nostra logica il nostro corpo tarato sincronizzato programmato dice qualche guru educato a me piace dire convinto nelle viscere del proprio dna a comportarsi in un certo modo come come la figura la persona le persone che ha visto da quando ha messo piede su questa terra quindi stress stress nervosismo nervosismo andiamo subito al dunque quando il sottoscritto cresceva avendo avuto un padre ripeto ancora una volta ottimo adesso mio padre è scomparso da due anni a questa nel 2018 è scomparso dopo dieci anni di ictus che è stato risolto per l'80 per cento dall'ipnosi vera e professionale bene e il sottoscritto nelle proprie aziende in tutto il mondo ogni volta che succedeva un problema ma anche quando ero uno studente alla fin fine senza una linea in tasca vicino milano in quel di modena saltava dalla sedia a tre metri ok perdevo la pazienza in maniera incredibile incredibile andavo in tachicardia il mio cuore sentivo palpitare a livello accelerato con il cuore in gola mi arrivava il cuore in gola ragazzi e fumavo tre pacchetti di sigarette mi ricordo ancora nel 2008 prima di incontrare l'ipnosi di cs vera e professionale che una sigaretta ancora fumava nel portacenere e io ne accendevo un'altra ok io mi ricordo molti collaboratori che sono rimasti accanto a me che si ricordano quel periodo ma durava da una vita e non me ne rendevo conto era più forte di me dopodiché ho iniziato a usare l'audio mp3 dcs molto controllo dei nervi della dottoressa lina brunini e di la mia vita veramente dopo anni che facevo ipnosi da autodidatta perché avevo letto più di 2000 libri avevo miscelato incrociato tutte le tecniche immaginabili e possibili di ipnosi vera e professionale che leggevo nei libri anche antichi del 1600-17 avevo risolto casi di insonnia depressione panico ansia sulle spiagge a 10 20 persone alla volta sulle strade nei ristoranti ho avuto la fortuna di avere una moglie tra virgolette santa perché santa non è però che non mi diceva nulla o almeno per l'80 90 per cento si girava dall'altro non mi ostacolava quindi avevo ottenuto risultati dolori cronici incredibili ma non avevo conosciuto il metodo di los angeles bever hills della dottoressa rina brunini del professor dottor michael angiel garai e dal 2008 ad oggi io non sono più la persona più stressata di questa terra più nervosa niente di niente di niente mi sono proprio il mio nervosisco il mio passato e il mio subcosciente ha azzerato ha annullato come se fosse rinato in quel momento nel 2008 e mi ha scaricato come un parafulmine di beniamino franklin tutta la tensione accumulata in quegli anni vedendo mio padre anche altre figure eccetera eccetera come compagni di classe eccetera a terra nelle viscere della terra quindi io ho eliminato lo stress non vuol dire che certe volte adesso non mi arrabbi però la differenza qual è che quando raramente ma molto raramente mi arrabbio mi stresso eccetera eccetera sparisce subito e sento il mio corpo i miei nervi contro sotto controllo il mio cuore non va più in tachicardia io respiro normalmente come il miglior karate kid il miglior buddha il miglior gandhi stai lì controlli lucidamente trovi la soluzione mentre prima perdendo la pazienza perdendo le staffe perdendo il controllo dei nervi tu andavi in tilt cioè non riuscivi più a connetterti con la realtà ok e rischiavi anche di offendere e di farsi offendere da chi gli ruotava attorno moglie compresa ti posso garantire che il mio nervosismo il mio stress è sparito a non al cento uno per cento al mille per cento oggi sono una persona più calma e più tranquilla della terra o più energia o più focus o più concentrazione o più voglia di vivere o miglia le relazioni sono migliorate del 300 per cento eccetera 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 sul lavoro rendo dieci volte di più in tutti i campi rendo dieci volte di più grazie all'ipnosi di cs vera professionale e ripeto il sottoscritto a tantissime attività nel mondo ho sospeso le sessioni online di ipnosi di cs vera professionale perché come tempo è veramente una manciata perché la mia mission adesso dopo dieci anni ho messo dieci anni per mettermi davanti a questi schermi è quello di divulgare il metodo di cs che un metodo di ipnosi di cs vera professionale unico al mondo non esistono uguali neanche l'ipnosi conformista e commerciale pur ottima di milton erickson deve elman brian west e chi più ne ha più ne mette la famosa ipnosi conversazionale da cui io sono partito di fatto però il sottoscritto conosciuto questo metodo del professore garai della dottoressa rina pronini che trovi anche su internet di los angeles beverly hills ti posso garantire che non hanno uguali nel mondo e aggiungo con la mia esperienza personale dal 2008 ad oggi in cui io mi ipnotizzo la mia persona h24 e anche in questo momento io sono ipnotizzato in maniera incredibile infatti nel libro che uscirà a breve parlerò delle mie esperienze ok ti posso garantire che se tutta la società il mondo delle persone conoscessero questo metodo ci sarebbe una società più forte più sicura più ottimista più solare più 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 senza se senza ma naturalmente perché diverso dall'ipnosi conformista e commerciale perché tu puoi utilizzarlo anche per il tuo caro la tua cara che non vuole essere aiutata aiutato che sta buttato magari nel letto davanti alla tv magari con una bottiglia di vino oppure è in preda alla depressione che non vuole andare né online né dal vivo da nessun guru perché si vergogna perché così pieno di sensi di colpa e che vuole punirsi da solo o da sola perché ti senti impotente come genitore per aiutare tuo figlio tua figlia oppure il tuo vecchietto la tua mamma il tuo papà che stanno buttando nel letto non partecipano come faceva mio padre colpito un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la metà della parte destra che stava buttato nel letto e la medicina tradizionale diceva non si poteva più fare nulla sia poteva campare anche 20 anni ma come una larva con un peso morto gli aveva dato l'anticoagulante io parlo di ictus per parlare di acufene di mal di testa cronico mal di schiena cronico tutto ciò che tu e autismo stesso epilessia che tu non hai risolto prova l'ipnosi vera e professionale anche presso un professionista dell'ipnosi della tua zona che tu ti trovi a bordo a parigi a marsiglia a milano a roma naturalmente uno è che sia anche nel mondo dell'ipnosi specializzato in quella tipologia non perché ci sono effetti collaterali ma perché tu non spenda soldi a bambino come si dice in inghilterra ok scherzo però voglio dire nel mondo dell'ipnosi è così vasto dove esistono soprattutto gli ipnotisti generalisti gli ipnotisti specialisti devi cercare uno primo ipnotista che ha già affrontato il tuo caso oppure magari anche un generalista perché no poi lo giudichi sui fatti ragazzi dai chi domanda comanda allora detto ciò oppure se non hai voglia di girare cappelle discarichi un audio mp3 dgs che fa il caso tuo come no depressione no panico no passato negativo molto controllo dei nervi vale a dire no stress dai e ricevi amore per i chiusi di cuore eccetera eccetera e inizi 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 perché moltissima gente anche con un solo audio mp3 dgs risolto i propri problemi poi esistono di là degli audio dgs personalizzati se c'è il caso se uno li vuole se vuole accelerare il processo e accorciare i tempi anche se il tempo non è richiesto dal metodo dcs questa un'altra differenza l'ipnosi conformista e commerciale perché non devi seguire nessuna montagna nessun ruscello non devi mettere auricolari non devi partecipare devi soltanto seguire le istruzioni molto facili a prova di nonna a prova di pigro a prova di idiota che non rubano nel tempo né a te né ai tuoi cari quindi è facilissimo ragazzi sono soltanto parole semplici naturali senza nessunissimo effetto collaterale e mi riferisco anche chi 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 pratica l'ipnosi conformista e commerciale dove qualcuno dice per alcuni casi bisogna stare attenti perché per come io rispondo che intanto il metodo dcs l'ipnosi dcs vera professionale non ha nulla a che fare con l'ipnosi conformista e commerciale di milton eric de velma braille west por buona per tanti motivi in primis per le suggestioni le parole usate in questi audi mp3 dcs non hanno nulla a che vedere con le suggestioni dell'ipnosi conformista e commerciale e neanche il metodo non ha nulla a che vedere per cui sono due elementi che eliminano anche quei dubbi di qualche guru che con i loro diagrammi equazioni perché vedono l'uomo come una macchina dicono che ci potrebbero essere delle cose per rarissimi casi nella mia esperienza dell'esperienza dell'associazione i prodotti associati lo sages baby hills 0 casi 000 di effetti collaterali l'unico effetto collaterale che potrebbe capitare spendere soldi senza ottenere risultati indietro però tu che hai girato tanti con zero risultati fino ad oggi per il tuo problema l'insonnia il mal di testa cronico l'acufene e il fatto che hai il talento ma non riesce ad emergere in uno sport la tua produttività il tuo focus e compagnia bella bene tu devi decidere ho speso tanti soldi da quattro anni cinque anni sei anni sette anni otto anni in giro senza di fatto ottenere nulla soltanto dei pagliativi perché non rinunciare ad una colazione al giorno per scaricare un audio mp3 dicesse che fa il caso mio oppure del mio caro e provare ma male che vada mi sono giocato una colazione al giorno per 30 giorni allora io al tuo posto lo farei e l'ho fatto con la dottoressa lina prunini quando nel 2008 io ho scritto in tutto il mondo per mio padre da ipnotista autodidatta perché non mi arrendevo all'evidenza dei fatti che la medicina tradizionale ripeteva che non si poteva fare nulla in quanto mio padre avevo portato oltre al medico curante anche da specialisti neurologi e compagnia bella che si hanno pagato un sacco di soldi per dirvi che non c'era nulla da fare che bisognava prendere soltanto l'auto anticoagulante perché il sangue non si coagulasse di nuovo in seguito ad una ricaduta e che e che e quindi sperare che non peggiorasse eccetera eccetera mio padre lavorando in mezzo quasi due stava nel letto con piacchie di decupito non parlava non partecipava non ascoltava aveva piacchie di decupito in tutto il corpo stava per andarsene di fatto depressione cronica go go e lì quando poi ho scritto in tutto il mondo anche luminari dell'ipnosi italiani tedeschi inglesi francesi giapponesi chi più ne ha più ne metta in tutte le lingue ho scritto questo email c'è qualcuno nel mondo dell'ipnosi che ha già affrontato casi di ictus perché bla 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 mio padre così 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 ho provato anch'io di ipnotizzarlo perché era vero lo ipnotizzai riuscì a farlo entrare in tranzo no come ho scritto anche sulla mia fanpage su facebook però mio padre non sapevo cosa dire quindi mi ero un po' impaurito mi ero fermato però ho visto già gli effetti che poteva fare e succedere allora che succede che mentre stavo per gettare la spugna la dottoressa rina prunini mi risponde los angeles sì qui a los angeles abbiamo affrontato trattato e affrontiamo e trattiamo casi di paralisi di ictus e casi rari con l'ipnosi vera e professionale io seguaci di santo maso scettico disse ma vediamo un attimino quanto costa la dottoressa mi disse 100 dollari per le 70 dollari e iniziamo in una mezz'oretta prendemmo io e mio fratello una sera di giovedì nel 2008 mio padre sotto le ascelle come una larga un peso morto lo portammo sulla poltrona del salotto avanti a un computer ciofeco una connessione ciofeca una webcam un microfono esterno casse esterne quindi senza cuffi mio padre non parlava non ascoltava non partecipava niente di niente mezz'oretta la dottoressa mentre si girava il latte il tè non so cosa facesse si sentiva la tazza e il cucchiaino parlava parole comprensibilissime dopo mezz'oretta ha detto schioccando le dita rocco alzati e cammina mio padre si alza rannicchiato zoppicando ma camminando va in cucina da mia madre e lì i miei occhi sono stati così non ci potevo credere non ci potevo credere come un bambino davanti alla cioccolata che non si aspetta oppure ad un film dove uno babba ero stato ipnotizzato da quella grande grande arte scienza che è l'ipnosi vera e professionale della dottoressa Rina Prolini e da lì mio padre è cambiato si è alzato dal letto io per due anni ho fatto l'assistente online con la dottoressa Rina Prolini ipnotizzavo mio padre con la dottoressa Rina Prolini due o tre volte alla settimana e mio padre è migliorato dell'80% con il bastone usciva parlava con gli amici rideva sorrideva e anche sessualmente si era risvegliato tu dici che c'entra il sesso beh mio padre è stato sempre molto attivo e lì anche la depressione è nata perché non funzionava nulla neanche a quell'età oltretutto però mio padre era così ed è stata una grande 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 scoperta e da lì la dottoressa ha ipnotizzato anche me in ufficio perché la dottoressa Prolini con l'ipnosi vera e professionale andava subito sul pratico non ho troppi bla 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 poi ho fatto il corso e infine ho conseguito un master di ipnosi clinica altamente professionale a Los Angeles Beverly Hills dal professor dottor Michel Angel Garai e dalla dottoressa Rina Prolini e ho messo dieci anni per mettermi ripeto davanti a questa faccia davanti a questi schermi per divulgare questo metodo unico al mondo unico con l'esponente, la radice quadrata o cubica del fatto che il sottoscritto dal 2008 ad oggi con una tecnica veramente unica al mondo si ipnotizza H24 come adesso da più di dodici anni per avere più energia, più forza, più equilibrio, più voglia di vivere ok? non credere a nessuna parola sappi soltanto che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 della Chiesa con Papa Pio IX nel 1847 e lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla e Papa Polacco si autopnotizzava per imparare le lingue straniere questo è quanto ora fammi tutte le domande del caso mi sono dilungato un po' troppo oggi